Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Protezione civile Garacol-Mistero, la regione affida il servizio di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature della colonna mobile, ma dai siti regionali mancano le carte. Dopo lo smantellamento dell'Agenzia continua il caos in un settore di vitale importanza per i cittadini. Sentiamo Pasquale Di Bello. Ci sono molti misteri in questa regione e quello della protezione civile continua ad essere uno dei rompicapo più impegnativi. Da quando è stata smantellata l'Agenzia, il marasma mozzafiato sembra farla da padrone. Prendiamo l'ultima delle vicende, quella dell'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature della colonna mobile, ovvero di quel serpentone immobile che ormai giace negletto dagli uomini e da Dio. Qualcuno dai piani alti o da qualche mezzanino deve essersi reso conto che tutta quella roba lasciata a se stessa prima o poi sarebbe andata in malora e allora ha deciso di affidare a una ditta questo specifico compito. Prima, ai tempi dell'Agenzia, questo lavoro, svolto internamente, veniva fatto con regolarità. Ma tagliamo corto. Sta di fatto che il direttore del servizio di protezione civile, Gino Cardarelli, lo scorso 7 luglio firma una determina dirigenziale con la quale nomina la commissione giudicatrice deputata all'assegnazione del servizio. Attenzione ai tempi e alle carte che non quadrano. La commissione chiamata ad aprire i plichi con le offerte viene nominata il 7 luglio. L'apertura dei plichi è fissata per il successivo giorno 8 alle ore 10. Tutta la vicenda inizia invece qualche giorno prima, esattamente il 22 giugno, solo 16 giorni prima dell'apertura dei plichi, sabati e festivi compresi. Pochissimi giorni quindi per rispondere alla gara. Quel giorno, sempre dalla protezione civile, viene sfornata una determina, la numero 73, con la quale si approva la documentazione necessaria alla gara e il relativo disciplinare. Bene, abbiamo girato in lungo e in largo sia l'albo online della regione sia il sito della protezione civile, ma come dimostrano le immagini della determina numero 73 del 22 giugno 2016 non vi è traccia. È legito allora porsi un paio di domande, perché quella determina manca e soprattutto chi è che ha vinto la gara. In attesa di scoprirlo, una cosa la sappiamo già, di immobile, oltre alla colonna mobile, in questa regione ci sono anche gli albi degli atti amministrativi, a meno che qualcuno a questo punto li muova e la determina magicamente a paia. Da due giorni non si hanno più notizie di un ragazzo di 19 anni di Larino, si chiama Nicola Miozza e studia al professionale di Casa Calenda. L'ultima volta è stato visto dalla madre lunedì pomeriggio, poi il giovane è sparito nel nulla senza avvisare o lasciare un biglietto. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della compagnia di Larino, che hanno avviato le ricerche in collaborazione con i vigili del fuoco e i volontari. Su Facebook gli amici hanno condiviso l'appello per chiedere a chiunque abbia notizie di Nicola Miozza di contattare la famiglia o di chiamare le forze dell'ordine. Ancora un dramma che dimostra l'insufficienza della rete ospedaliera regionale a far fronte alle emergenze dopo i tagli, ai servizi e ai reparti. Questa volta ci ha rimesso la vita un 48enne di Agnone colpito da ictus e trasportato al Cardarelli. Quando è arrivato a Campobasso non era più possibile far nulla. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Troppi morti la sanità pubblica del Molise va difesa. L'anno scorso l'uomo colpito da infarto a Venafro è morto in ambulanza mentre lo portavano al Veneziale di Isernia. Poi la donna morta su una barella al pronto soccorso del Veneziale perché non c'erano posti in corsia. Infine oggi il 48enne di Agnone colpito da ictus che è impossibilitato a ricevere soccorsi a Francesco Caracciolo viene portato al Cardarelli di Campobasso e lì muore. Tre casi drammatici ed emblematici della capacità di risposta della sanità pubblica molisana. Praticamente incapace di affrontare le emergenze di ogni giorno dopo essere stata amputata e ridimensionata senza criterio e soprattutto senza alcun disegno o prospettiva strategica. Si tratta di tre morti che gridano vendetta. Una volta si diceva che in Italia per risolvere i problemi ci deve scappare il morto. In Molise o meglio in provincia di Isernia dove i servizi della sanità pubblica sono stati tagliati senza alcun criterio di morti ce ne sono già tre e ancora si aspettano sia la giustizia che le risposte. La cronaca di oggi ci racconta che è morto al Cardarelli di Campobasso il 48enne di Agnone colpito da ictus e trasportato all'ospedale campobassano quando probabilmente non si poteva fare più nulla per salvarlo. Magari quell'uomo sarebbe morto lo stesso anche se soccorso, curato e operato tempestivamente. Ma questo non lo sapremo mai perché quello che si sarebbe potuto fare seguendo tempestivamente i protocolli d'emergenza non è stato possibile farlo. Il poveraccio era stato colpito da ictus il 27 giugno scorso ed era rimbalzato da un ospedale all'altro, da un'ambulanza all'altra fino a giungere in vine a Campobasso. 15 giorni di agonia per morire nel reparto di rianimazione del Cardarelli senza riprendere coscienza. A fine giugno scorso arrivò il San Francesco Caracciolo trasportato in auto perché le ambulanze del nosocomio Alto Molisano erano tutte impegnate in altri soccorsi, nonostante da Isernia fosse partita un'altra ambulanza. Arrivato al Caracciolo l'assenza del radiologo non dava la possibilità di fare un attacco urgente. Fu finalmente trasportato a Campobasso a bordo di un'ambulanza arrivata da Trivento. Nel reparto di neurochirurgia l'intervento chirurgico per tamponare l'emorragia cerebrale in atto. Caso questo riportato anche nella denuncia alla Procura della Repubblica presentata dal sindaco Marco Vecchio e dai suoi assessori. La cronaca degli ultimi mesi si legge in un passaggio della denuncia e piena di episodi che descrivono casi di decessi che forse si avrebbero potuti evitare se vi fosse stata la presenza ad Agnone di un anestesista rianimatore, figura a cui devono supplire i medici in servizio che agiscono facendosi carico di ogni responsabilità e conseguenza. Ieri pomeriggio i funerali presso la chiesa Sant'Antonio Abate ad Agnone. La morte del 48enne agnonese ha lasciato attonita l'intera comunità che si domanda ora se al Francesco Caracciolo sia davvero garantito il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. La stessa domanda che si fanno a Venafro e a Isernia. Da un lato predicano il contenimento della spesa, dall'altro intascano retribuzioni che non dovrebbero incassare. Lo ha dichiarato l'avvocato Vincenzo Iacovino, autore dell'esposto sullo stipendio del presidente della RAI Monica Maggioni, presentato alla Procura di Roma, alla Corte dei Conti e alla Commissione Parlamentare di Vigilanza. Un esposto ha spiegato l'avvocato di Campobasso che sostiene le ragioni dell'associazione RAI Bene Comune, secondo cui Monica Maggioni e lo storico inviato del Tg1 Vincenzo Mollica potrebbero incassare uno stipendio maggiore rispetto a quello che prevede la legge. Attraverso la nostra attività di indagine, ha aggiunto Iacovino, siamo convinti di poter dimostrare con carte alla mano lo spreco di denaro pubblico. Della questione, ha concluso il legale molisano, è stata chiamata ad esprimersi anche l'autorità nazionale anticorruzione. Il Comune di Campobasso, citato come esempio positivo dai tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla sicurezza degli edifici scolastici. Il capologo è infatti tra le 52 città che realizzeranno i poli didattici innovativi. Intanto c'è attesa per l'esito degli studi geologici sulle scuole di via Sant'Antonio dei Lazzari e di via Berlinguer, commissionati dall'amministrazione. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Vanno avanti a ritmo serrato i lavori per completare entro settembre gli edifici scolastici di via Sant'Antonio dei Lazzari e via Berlinguer, che dovranno ospitare gli alunni della primaria di via Crispi. I mezzi e uomini al lavoro in una sorta di corsa contro il tempo per consegnare le due strutture nuove di Zecca alla dirigente scolastica il 12 settembre. Intanto per ora si attende l'esito degli studi geologici commissionati dal Comune dopo il vespaio di polemiche sollevato dal Movimento 5 Stelle, che ne aveva denunciato l'assenza tra la documentazione. Le verifiche sono in corso, bisognerà ancora attendere l'esito per capire come si risolverà la vicenda. Il sindaco Battista e l'assessore ai lavori pubblici Pietro Maio si dicono tranquilli, pronti ad ogni evenienza. Certo, ci si chiede cosa accadrebbe se l'esito degli studi geologici dovesse essere negativo. Le due scuole verrebbero ugualmente completate ed aperte a settembre? Domande alle quali al momento non ci sono risposte. Attendiamo l'esito degli studi prima di prendere una qualsiasi decisione, dichiarato Battista. E in attesa che venga chiarito il destino scolastico degli alunni della Scarano, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri arriva il plauso per l'impegno messo in campo dal Comune di Campobasso sul fronte della sicurezza degli edifici scolastici. Laura Galimberti, partecipando ad una manifestazione che si è svolta all'Aquila, ha citato espressamente il capologo molisano che è tra le 52 città italiane che realizzeranno scuole innovative grazie ad un concorso promosso dal Governo. È uno degli esempi positivi frutto di una concreta sinergia tra le istituzioni nazionali e quelle locali, ha commentato la Galimberti. L'iter per la realizzazione del polo didattico innovativo destinato agli alunni di Via Crispi è partito. Il bando è stato pubblicato il 18 maggio e scadrà il 30 agosto. Un progetto ambizioso anche avveniristico perché stravolge i canoni tradizionali dell'edilizia scolastica. Si parla di strutture realizzate con materiali ecosostenibili che sfruttino le fonti di energia rinnovabile, dunque con nessun impatto ambientale anche dal punto di vista delle emissioni. L'amministrazione Battista ha già posto in bilancio la somma destinata alla progettazione e all'abbattimento della vecchia struttura, circa 800 mila euro. Il resto sarà a carico dell'Inail. Spacciava droga per arrotondare lo stipendio. Un uomo di 46 anni di Avellino lo hanno arrestato i carabinieri di Boiano, i militari lo tenevano sotto controllo e lo hanno fermato in un agriturismo dell'area matesina. Hanno perquisito anche la sua macchina e con l'aiuto dei cani della Guardia di Finanza. Nell'auto hanno trovato circa 235 grammi di hashish, marijuana e cocaina e circa 200 euro frutto, molto probabilmente di spaccio. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Campobasso la droga sequestrata. Sono pronte le analisi dell'acqua del mare di Termoli che il Movimento 5 Stelle aveva affidato a un laboratorio di fuori regione. I valori dei batteri schizzano solo nelle zone intorno al depuratore che non depura secondo i parametri di legge. Sui litorali nord e sud i risultati sono buoni. Sentiamo Manuela Iorio. Sono pronti i risultati delle controanalisi dell'acqua del mare di Termoli che il Movimento 5 Stelle aveva affidato a un laboratorio abruzzese. Era stato il consigliere comunale Nicola Di Michele a effettuare i campionamenti di persona sia sul litorale nord che sul litorale sud. E sempre lui ha pubblicato tutto su Facebook. Il risponso conferma in parte le analisi straordinarie che già l'ARPA sta portando avanti solo per il Lido Anna e la Calasveva, e cioè che la presenza di enterococchi intestinali e di batteri delle feci è sotto i limiti consentiti per legge. Stesso risponso anche per Rio Vivo, fin dove si era spinto Di Michele con i campionamenti, dati che almeno dovrebbero tranquillizzare i bagnanti. Situazione opposta invece per le aree intorno al depuratore. Sotto il Paese Vecchio, dove si sta svolgendo la riparazione della condotta che è chiusa dall'inizio dei lavori, i valori degli enterococchi intestinali salgono a 1.460 quando il limite è di 200. Ma la criticità più grave si riscontra laddove ora vengono temporaneamente scaricati i reflui in una vecchia condotta verso il Molo Sud, a circa 300 metri dalla costa. Qui i valori schizzano a 11.800 per i batteri intestinali e a 8.500 per quelli delle feci. Questo vuol dire che il depuratore non lavora secondo i parametri di legge ed è per questo che il consigliere Di Michele invita il sindaco a vietare ogni attività di pesca e balneazione nella zona incriminata. Quello che emerge insomma è che c'è un problema depuratore sottovalutato per troppi anni e che anche quando la condotta verrà riparata i problemi dell'impianto che lavora abbondantemente sopra le proprie capacità resteranno. Ci sono stati momenti di paura nel pomeriggio tra la spiaggia libera e il lido Aloha di Termoli. Cinque ragazze che stavano facendo il bagno sono state trascinate dalla corrente a circa 30 metri dalla riva. Una di loro ha ingerito molta acqua e ha rischiato di annegare ma il peggio è stato evitato grazie all'intervento di Nicola Difonso, bagnino dello stabilimento che si è reso conto del pericolo e ha tratto in salvo la ventenne. In soccorso è arrivato anche un collega e per la comitiva tutto è finito bene. Anche una delegazione molisana dei vigili del fuoco ha partecipato alla manifestazione di protesta oggi a Roma davanti alla sede del Ministero dell'Economia e organizzata dal sindacato autonomo CONAPO. Sentiamo Patrizia Testa. È alta l'emergenza in Molise per il rischio incendi. Tante le misure è adottate per farsi trovare pronti in caso di situazioni di particolare criticità. Dopo il vertice in prefettura con i vigili del fuoco e l'intesa tra la regione e l'Enel anche il comune di Campobasso ha predisposto un'ordinanza emessa dal sindaco Antonio Battista che ha l'obiettivo di prevenire e ridurre i roghi durante l'estate. Vietato allora accendere fuochi, usare apparecchi che emettono scintille e quindi possono innescare incendi. Molte salate a chiunque non osserverà queste disposizioni, da un minimo di 148 euro ad un massimo di quasi 10.500 euro per i casi più gravi. Proprio in questi giorni di allerta uno dei corpi sempre in prima linea nell'affrontare queste emergenze è in protesta. I vigili del fuoco chiedono il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da quasi 10 anni. E così gli iscritti con Apo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, si sono dati appuntamento a Roma in via 20 Settembre davanti al Ministero dell'Economia per far valere i propri diritti. Una manifestazione silenziosa con il lotto al braccio per rispetto delle vittime dello scontro tra due treni in Puglia. Presente anche una delegazione del Molise che, unita a quella degli altri comandi, chiede uno stipendio e un trattamento pensionistico uguale agli altri corpi dello Stato che si occupano di sicurezza. Il senatore del PD, Roberto Ruta, è soddisfatto per l'approvazione degli emendamenti di cui lui è primo firmatario al disegno di legge cinema all'esame della Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato. I provvedimenti, ha spiegato Ruta, sostengono le sale cinematografiche nei comuni con meno di 15 mila abitanti che andranno finanziate per 30 milioni di euro all'anno nel periodo 2017-2019. In aula aggiunto presenterò un ulteriore emendamento che ho già proposto in Commissione con il quale si distinguono tre fasce di agevolazioni. Una per tutte le sale cinematografiche, una per quelle nei comuni con meno di 50 mila abitanti e la terza per le sale in centri al di sotto dei 15 mila abitanti, ha concluso Roberto Ruta. In un'area protetta nel territorio di Monte Roduni, la forestale ha sequestrato alcune cave abusive di verdello, una pietra ornamentale molto richiesta sul mercato. Cinque persone sono state denunciate. Il nostro servizio. Il verdello è una pietra ornamentale molto richiesta sul mercato. È utilizzata soprattutto per le pavimentazioni esterne o per rivestire le pareti nelle località caratterizzate da un clima rigido. Alcune cave abusive di questo materiale sono state scoperte dal Corpo Forestale dello Stato in un'area protetta, la foresta addemaniale regionale Monte Caruso-Montegallo, nel territorio del comune di Monte Roduni. Gli agenti, coordinati dal commissario Sandra Martinelli, responsabile del nucleo investigativo che si occupa di reati ambientali, oltre a sequestrare le cave, mezzi meccanici e bancali di pietre, hanno denunciato quattro uomini e una donna, tutti residenti nella provincia di Caserta. Dovranno rispondere di danneggiamento ambientale, estrazione abusiva e furto aggravato. Le indagini sono state svolte anche con l'ausilio di telecamere nascoste. A seguito di un controllo ordinario svolto dal personale del Corpo Forestale è stata accertata l'esistenza di un'attività illecita, consistente nell'estrazione abusiva di materiale carcario per la precisione di verdello, il furto aggravato perché poi il materiale veniva asportato e poi altri reati strumentali collegati a questi, quali la violazione di sigilli, visto che dopo il nostro intervento e i primi sequestri effettuati sui mezzi e sul materiale estratto abusivamente, questi beni sono stati trafugati. Ovviamente a tutto ciò si aggiunge il danno per l'ambiente, e quindi tra i reati contestati c'è anche il danneggiamento ambientale perché ci troviamo nella foresta demaniale regionale di Monte Caruso-Montegallo nel territorio di Monte Roduni. Per diverse settimane siamo stati impegnati in un vero e proprio gioco a guardie e ladri perché cercare di capire e anticipare le loro mosse non è stata cosa facile. Siamo venuti qui diverse volte, abbiamo compiuto servizi di appostamento e poi necessariamente abbiamo dovuto anche ricorrere all'impiego di strumenti tecnologici quali le fototrappole che ci hanno permesso di ricavare indizi interessanti per seguire poi la pista che si è rivelata quella giusta. Presentata al Palazzo Marchesale di Ripa Limosani l'anteprima della quinta edizione simposio Ripa 2016 Regeneration Arte, Bellezza e Cultura ce ne parla in questo servizio Raffaella Di Carlo. Un'atmosfera accogliente, il tepore del caldo sole estivo al tramonto e nell'area note di cultura, di arte, in una cornice altrettanto suggestiva, il giardino del Palazzo Marchesale di Ripa Limosani. È qui che si è svolta l'anteprima del programma simposio Ripa 2016 Regeneration Arte, Bellezza e Cultura. Gli ideatori Gianni Manusacchio e Katia Mitri per questa quinta edizione hanno pensato a qualcosa di nuovo, fresco, genuino. Quinto anno consecutivo dove noi mettiamo in vetrina le bellezze, il tesoro che abbiamo qui in Molise perché abbiamo storia, monumenti, artisti, cantanti, giovani promesse perché questa edizione è dedicata completamente alle nuove generazioni. Però più che rigenerazione in tutti i sensi mi interessa molto arte, bellezza, cultura che io ritengo essere l'ABC dell'essere, del vivere bene. E poi noi vogliamo aprirci, non vogliamo chiuderci perché in quest'anno nel simposio si sono create quelle che noi chiamiamo sinergie ma quelle reali, non fittizie. Un'occasione per scuotere gli animi a volte assopiti del pubblico che ha bisogno di respirare cultura, di immergersi nell'arte in ogni sua forma ma anche per dare opportunità ai nostri artisti, soprattutto i più giovani, di cavalcare nuovi palcoscenici, di emozionarsi ancora e fare emozionare. C'è sempre questa tendenza a dire la cultura è importante, è importante pare che non si parli d'altro però poi non si fa mai, praticamente non si fa. Loro due sono stati gli organizzatori forti, bravi, intelligenti a farla e quindi si può fare e si farà sempre così tanto. Io spero che a un certo punto non farà proprio più notizia fare cultura. Io ritengo che la musica e il teatro siano un binomio assolutamente indissolubile il regista, l'amico Gianni Manusacchio ha pensato di individuare in noi delle persone che potessero collaborare appunto al suo progetto. Questa conoscenza che è nata tra un molisano e un friulano non ha avuto bisogno di parole, ha avuto solo bisogno di pochi gesti, di pochissimi attimi. Un simposio dunque per dirla con Platone come confronto costruttivo per promuovere e valorizzare il territorio molisano. Iniziativa dell'amministrazione comunale di Roccamandolfi dedicata ai più piccoli in una nuova area, picnic alle porte del paese, è stato piantato un albero per ogni bambino nato tra il 2011 e il 2015, l'esservizio di Sergio Di Vincenzo. Una giornata di grande festa, ma al tempo stesso molto significativa, quella vissuta dai bambini di Roccamandolfi nati tra il 2011 e il 2015. In località Cannarella l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, ha organizzato la manifestazione Un bambino, un albero. Per ogni nuovo nato è stato piantato un abete bianco o un cedro. Saranno questi bambini, insieme ai genitori, a prendersi cura delle piante destinate a crescere insieme a loro. Chiaro il senso dell'iniziativa, promuovere la cura e il rispetto dell'ambiente tra le nuove generazioni. L'amministrazione comunale ha voluto organizzare questa manifestazione per sensibilizzare i bimbi più piccoli sulle tematiche dell'ambiente, della natura e in particolare dell'albero, visto che Roccamandolfi è un patrimonio boschivo molto molto importante. L'agurio e la speranza è che i cittadini del domani, quindi le nuove generazioni, sappiano avere una sensibilità più spiccata di quelle attuali e che può essere utile sia per un miglior senso civico, sia per un futuro migliore dal punto di vista naturalistico. La festa dell'albero dedicata ai novinati è anche un bel segnale in controtendenza rispetto all'incubo spopolamento che sta mettendo in crisi i piccoli paesi negli ultimi anni. Infatti a Roccamandolfi si sta registrando un numero confortante di nascite. Per fortuna nell'ultimo periodo di media nascono 5-6 bimbi all'anno, che per un paese di circa 1000 abitanti sono tanti abbastanza. Ovviamente questo ci lascia ben sperare perché i bimbi rappresentano il futuro, rappresentano la speranza e rappresentano anche il futuro di una comunità. Quindi questo ci lascia ben sperare e l'agurio è che la cicogna sia sempre fertile. E' tutto, termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.